Ecco, vedete qui in via Novara, vicino proprio al comando dei vigili, la polizia locale stanno recuperando il pulbone che è finito nell'assiette, è finito con il tuo muro, sul marciapiedi, per fortuna non passa nessun altro momento, il carro 3 si sta appunto iniziando il manovra per recuperare il mezzo e poi il conducente si è sentito male, con il tuo malore ha perso il pulbone completamente, ha finito con il tuo muro, ripeto, sul compone nessun perito, perché dall'interno un agente di polizia locale ha sentito il tuo muro, questo è il tuo muro, grazie, 24 minuti.